Fascinante! Cosa? A quanto pare è un anello del Signore degli Anelli. C'è perfino sopra la scritta in elfico. No, non è elfico. In realtà è la lingua di Mordor, riportata usando caratteri elfici. Un anello per domarli. Un anello per trovarli. Un anello per germirli. E nel buio incatenarli. Siamo nerd patentati. Ce l'ho fatta. Ho vinto io. L'anello del potere è mio. Dobbiamo pulirlo molto bene. Dobbiamo farlo splendere. È tutto mio. Il mio amato. Il mio tesoro.